Bentrovati all'Orlando Furiosa, amici di Prima Radio. Oggi è venerdì 26 novembre. Parliamo del Consiglio Comunale di Palermo perché si è svolta l'ennesima seduta che ha contrapposto diametralmente l'opposizione in Consiglio Comunale a Palermo, che è la maggioranza nei numeri, al Sindaco, all'Aggiunta Comunale e al residuo dei consiglieri che una volta erano in maggioranza. Perché? È stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022, ma è stata accantonata la linea A del Tramme con un emendamento che era stato firmato da Ugo Forello e Giulia Argiroffi. L'approvazione del Piano Triennale senza la linea del Tramme è stata ottenuta con 21 voti a favore, 9 contrari e 3 astenuti. La linea A del Tramme doveva essere quella che attraversava la Via Libertà, ma è stata stralciata. Questo ha comportato le ire del Sindaco, della sua Aggiunta Comunale e naturalmente del residuo dei consiglieri che sono rimasti fino ad ora dalla parte del Sindaco. La bocciatura da parte del Consiglio Comunale della linea A del Tramme è risultata per l'Unico Orlando e la sua amministrazione una vera e propria sberla, che a loro giudizio è arrivata soltanto per intracciare quella che è l'attività dell'amministrazione senza tener conto della crescita di Palermo. Perché secondo Sindaco ed amministrazione la linea A del Tramme dovrebbe essere quella che completa il percorso tramviario e che quindi decreti poi una crescita nel piano trasporti della città di Palermo. Se viene bocciata dal Consiglio Comunale soltanto per fare mera opposizione, diventa uno sgarbo alla città e non solo al Sindaco e alla Giunta. Questa è la versione di Leoluca Orlando, dell'assessore Giusto Catania e degli altri componenti dell'ex maggioranza. Tanto è vero che i consiglieri che sono dalla parte di Orlando hanno scritto e diffuso una nota nella quale sottolineano che la maggioranza di centrodestra del Consiglio Comunale ha fatto un grave sfregio alla città stracciando dal progetto Tramme la linea A che era il fulcro di un sistema Tramme completo. Questo determinerà un danno di cui si dovrà assumere la responsabilità politica in special modo chi si è presentato alle elezioni affermando di volere il Tramme poi ha votato due piani trennali che prevedevano tutte le linee e oggi ne chiede lo scalpo per consumare una squalida vendetta politica a scapito della città. Questa non è politica ma arroganza e strumentalità. I consiglieri di opposizione hanno festeggiato in aula quello che è un disastro per la nostra comunità. Questa è la nota dei consiglieri che fanno parte del gruppo maggioranza del gruppo Orlando. E sulla carta quello che scrivono ha un senso. Vediamo invece cosa sostengono i consiglieri di maggioranza, quelli che sono all'opposizione. Vi faccio sentire lo stralcio di un'intervista rilasciata da uno dei firmatari dell'emendamento, Giulia Argiroffi, che tra l'altro è un tecnico progettista. Lei sostiene che intanto l'opera non aveva una reale copertura finanziaria e poi che aveva dei problemi tecnici, tanto che non sarebbe mai stata portata a compimento. Ascoltiamo cosa ha dichiarato qualche giorno fa Giulia Argiroffi. Costruiamo una cosa che non è giustificata da nessuna valutazione trasportistica e finanziaria economica, oltre che anche sociale. In più, consci della storia della città di Palermo, rischiamo di iniziare un'opera che non troverà mai la conclusione. Quindi il Consiglio Comunale, in un atto di responsabilità, chiede di rimandare la trattazione della linea a uno studio serio di pianificazione e di valutazione trasportistica e finanziaria economica. Non c'è nessuna posizione aprioristica e non c'è mai stata. Questo è il gioco, mi permetto di dire, stupido che fa chi non ha le competenze e si gioca a contrapporre cattivi e buoni, contrari e non contrari, nemici della città da quelli che invece non lo sono. Io sono in Consiglio Comunale in veste di consigliere, non di tecnico. Quindi mi aspetta a me stabilire cosa è meglio e che cosa è peggio. Io ho l'esigenza di avere dei documenti che mi dimostrano, in maniera scientificamente provata, cosa è meglio e cosa è peggio nel sistema allargato, non palermitano, della città metropolitana. Dopodiché si apre il dibattito politico, non prima. Non prima. Quando l'amministrazione comunale presenterà un piano serio, e serio lo dirà il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dei Trasporti, allora potrà essere attivato un dibattito politico, ma dopo, non prima, perché quello non è un lavoro serio. E anche questa versione, quella dell'opposizione, è convincente. Io, da cittadino, cosa penso e cosa sostengo? Non si può andare avanti con una maggioranza che non può deliberare in Consiglio. Io non pretendo di entrare nell'aspetto tecnico e di giudicare se hanno ragione i consiglieri di Orlando o quelli di opposizione che hanno bocciato la linea del tram in via Libertà. Una certezza però ce l'ho da semplice cittadino, che una città come Palermo non può essere amministrata in questo modo. Sarebbe opportuno, a questo punto, terminare l'esperienza dell'amministrazione, aspettare un periodo di commissariamento durante il quale nessuno potrebbe compiere atti di straordinaria amministrazione e poi ripartire con un'amministrazione nuova che abbia la sua maggioranza e che prenda le responsabilità, nel bene o nel male, del futuro della nostra città. È tutto per il momento, l'Orlando Frioso torna nelle prossime edizioni.